in questa video lezione è contenuta una lunga serie di frasi scritte in italiano e che tu dovrai tradurre in tedesco buon divertimento sto aiutando qualcuno io sono qualcuno aiutare sto aiutando qualcuno io sono qualcuno aiutare mi stai ascoltando? ascolti tu me? mi stai ascoltando? ascolti tu me? as du me? as du me? sono pronto a tutto io sono pronto per tutto sono pronto a tutto io sono pronto per tutto io sono pronto per tutto io sono pronto per tutto lei ha degli animali domestici? hanno lei domestici animali? o se preferite ha lei domestici animali? ha lei domestici animali? ci siamo separati noi separare a noi ci siamo separati noi avevamo un bel tempo ci siamo divertiti noi avevamo un bel tempo wir hatten eine schöne Zeit wir hatten eine schöne Zeit è vero è vero è vero è vero è vero es ist wahr es ist wahr è falso esso è falso è falso è falso esso è falso es ist fals es ist fals chi sono i tuoi amici? chi sono i tuoi amici? chi sono i tuoi amici? wer sind deine Freunde? wer sind deine Freunde? vorrebbe una fetta di torta? vorrebbe lei un pezzo torta? vorrebbe una fetta di torta? vorrebbe lei un pezzo torta? machten sie ein stück torte? machten sie ein stück torte? mi piaci tu molto mi piaci tu molto ich mag dich sehr ich mag dich sehr mi piace volare mi piace volare mi piace volare ich mag fliegen ich mag fliegen noi siamo pronti noi siamo pronti wir sind bereit wir sind bereit la risposta è corretta la risposta è corretta die Antwort ist richtig die Antwort ist richtig qual è la differenza? qual è la differenza? qual è la differenza? was ist der Unterschitt? was ist der Unterschitt? chi ne ha bisogno? chi ha bisogno questo? chi ne ha bisogno? chi ha bisogno questo? Noi vorremmo due birre. Vorrei mangiare una pizza. Vorrei mangiare una pizza. Esso è un amichevole gesto. Esso è un amichevole gesto. Es ist eine freundliche geste. Puoi tu lentamente parlare? Puoi tu lentamente parlare? Kannst du langsam sprechen? Kannst du langsam sprechen? Puoi tu lentamente parlare?